Il 6 luglio quest'anno è una data che a me sta particolarmente a cuore perché arrivano Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti, l'anima fondatrice dei La Cruz, che sono stati veramente un gruppo seminale per il rock italiano degli anni 90 e che vengono in realtà con uno spettacolo di confine tra musica, teatro e audio-video al laghetto delle danze, quindi non qui nella meravigliosa cornice dell'anfiteatro del Vittoriale per un appuntamento appunto speciale mentre le ombre si allungano, i loro fan più accanniti riconosceranno la citazione di un verso di una celebre canzone proprio dei La Cruz, in questo caso però la regia è di Francesco Frongia, regista del teatro dell'Elfo e quindi appunto ci muoviamo in quella zona liminare di confine che poi è tipica degli spettacoli che il festival ospita al laghetto delle danze. L'idea è quella anche quest'anno di riportare il teatro all'interno di questo cartellone perché in fondo questo luogo è nato come un luogo di riferimento in Italia negli anni 80-90 proprio per la prosa. L'incontro con Fiorenzo Grassi, questo personaggio che ha fatto un po' la storia del teatro italiano, mi ha restituito un po' di fiducia nei confronti del fatto che ancora ci sia chi desidera vedere prosa di qualità estiva, lo scenario culturale molto mutato ovviamente rispetto a quegli anni. Fiorenzo mi ha detto una cosa illuminante, cioè lui mi ha detto io continuo a ripetere anche a tutti gli assessori che si alternano, regioni, comuni. Noi abbiamo in Lombardia la Spoleto Lombarda che è il vittoriale degli italiani. Riportiamo il teatro al vittoriale. È sicuramente un obiettivo che da sempre teneramente custodisce. Quest'anno ci proviamo con questo spettacolo di confine e con il successivo poi appuntamento di confine che ci sarà a fine cartellone con Ale e Franz, protagonisti dello spettacolo nati sotto contro l'aria stella, ma poi di questo parleremo più avanti.